Se ne parla sempre tanto, si discute sulla quantificazione dei fondi, sui tracciati, sui percorsi, ma intanto sulla strada statale 106 si continua a morire. A Corigliano Rossano si piange l'ultima vittima in ordine cronologico ed è un lungo elenco che sembra essere davvero senza fine. I dati indicano in questo 2022 una preoccupante tendenza che racconta la crescita dei numeri relativi alle vittime. Il tutto mentre la politica indica nell'ammodernamento dell'ormai famosa strada della morte, un'emergenza del governo regionale e nazionale. Negli ultimi giorni sulla questione è intervenuto anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, che ha garantito che il governo metterà a disposizione 3 miliardi per l'infrastruttura. Lo stesso governatore poi ha fatto sapere che chiederà una legge speciale per finanziare interamente l'opera con destinazioni pluriennali. Per la verità, per alcuni tratti esistono già dei finanziamenti, ma i lavori o in alcuni casi la progettazione, sembrano non andare alla velocità che servirebbe. Proprio il tratto in cui è avvenuto l'ultimo incidente è uno di quelle per i quali dovrebbero partire i lavori, ma qualche settimana fa, al di là della presentazione ufficiale, parliamo del tratto Sibari-Corrigliano-Rossano, abbiamo raccontato il disaccordo fra ANAS e Comuni in relazione al tracciato. Tempi che, al di là delle motivazioni, non ci si può permettere perché in gioco ci sono vite umane. Grazie a tutti.